Salto un culo di pranzo Ma qui è questo qui? No, no, non fai Giù sta... Un portatile Tutti grandi Grazie. 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 Nel quarto mistero della luce concertiamo la trasfigurazione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.